Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come fa? Spero tutto Super 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 Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Come potete ben notare l'atmosfera di oggi è molto Magabra Questo infatti è il primo dei due speciali di Halloween Halloween, 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 Halloween È infatti arrivato quel periodo dell'anno ed il video che vi porterò oggi Sono certo che lo avrete visto da pochissime parti ed è una cosa che non vi aspetterete di certo Andrò infatti ad incidere una zucca Zucca, zucca, zucca Halloween Con una bella faccia spaventosa Vediamo cosa verrà fuori perché sono troppo, troppo, troppo curioso Considerate che io non ho mai inciso una vera e propria zucca O infatti quella in terracotta E quando sono molto emozionato Grazie al canale proverò anche questa nuova esperienza Tanto vedete che è circondata da ragnatele, ragni Insomma dovremmo anche liberarla Prima di cominciare con questa incisione voglio però parlarvi dello sponsor del video di oggi Uno shop che conoscete bene ormai Ovvero GOLOG GOLOG Che cosa offrono? Beh PC di qualsiasi tipologia Dalla fascia bassa per studenti e persone poco esigenti Ad una fascia molto alta per gamer esperti o per grandi editor video come me Avete visto? Infatti pochi video fa avevo mostrato il computer che mi hanno realizzato con una potenza davvero unica Nel sito oltre alle varie tipologie di PC trovate anche molti accessori che potranno rendere la vostra postazione unica ed ineguagliabile Quindi vi lascio il link al loro shop nella descrizione e mi raccomando usate il codice sconto pietra smr tutto maiuscolo per ottenere un bono di 10 euro su una spesa minima di 99 euro Detto questo io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto mi raccomando è super 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 importante per la crescita e per superare questo periodo buio che sto passando appunto, che il canale sta passando Ed in più vi ricordo anche di seguirmi su Instagram per non perdervi nessun aggiornamento, link in descrizione e detto ciò iniziamo l'incisione vediamo cosa verrà fuori Bene, eccoci qua Con la zucca pronta per essere incisa Ho qui l'idea di disegno di andare a realizzare un viso simile a questo quindi cercherò di fare del mio meglio Ok Andiamo a rimuovere la ragnatela Perfetto Ed ora Sono pronto Per incidere Questo Lato qui Mi andrò a servire Di questo penarello qui Partiamo Partiamo Dagli occhi Che faremo in questa zona qua Ok Bene bene Uno Allora Allora prendo riferimento Il naso Di farlo più o meno qua Perfetto Andando a fare quindi gli occhi Su questo Su questo Lato In questa Maniera Qua Perfetto Un altro Qui L'altezza No No Lo mettiamo un po' più distante Più o meno qua Sì qua va bene All'altezza così andando a sviluppare Ok Perfetti Perfetti Gli occhi Sono perfetti Dopodiché Andiamo a farli Alla bocca Quindi Partiamo dal lato alto Qui Andando Giù Salendo Salendo Scendendo Salendo 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 E quindi qua, 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 qua e chiudendo giù in questa maniera. Direi che come viso ci siamo, che ne dite? Penso sia alquanto perfetto, vedete? Quindi questa è la nostra pozza. E ora partirei con la sua incisione andando per prima cosa ad incidere questo occhio qui. Quindi affondiamo. Bene. Bene. è molto morbida devo dire perfetto gli abbiamo tolto l'occhio spostiamo il piatto qui sotto ed abbiamo il primo occhio sono molto molto soddisfatto di come sia venuta andiamo con il prossimo da questa parte andiamo 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 ok ebbene anche l'altro occhio è andato bene ora andiamo a sistemare qui perfetto direi di andare ora con il naso quindi incidiamo in questa maniera qua ebbene attimo queste zucche da incisione sono perfette per essere incise chissà come mai ed il naso anche se n'è andato ovviamente non è edibile ora arriva la parte un po' più difficile quindi direi di spingere questa canterona a teo prima che faccia i danni e continuiamo ad incidere perfetto perfetto andiamo ok 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 ecco ok 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 Questa maniera Andiamo Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, perfetto Ci siamo quasi ragazzi È dura Sta per venire via Ok, primo pezzo della bocca è andato via Bene, bene Altro ancora Altro ancora Ok Perfetto Ed ecco l'ultimo Wow È venuta perfetta Sono super Super Soddisfatto Del risultato Wow La mia prima zucca incisa ragazzi Yes Ora Sul retro Voglio aprirla Per poterla poi svuotare Ok? E mettere dentro la candela Quindi facciamo un'apertura In questa maniera Più o meno Per poterla Svuotare Quindi Quindi E' Adesso Pues Mi 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 Bene 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 ragazzi ci siamo quasi Cerchiamo di tirarlo via Perfetto Che suono meraviglioso L'interior della mia zucca Ok il suono è superiore Ora cerchiamo di svuotarla bene Andiamo a immergere la mano Ok 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 Perfetto ragazzi Ci siamo Allora Giuriamola Eccola qui Ben svuotata Ok Ok Direi che è proprio Perfetta Che ve ne pare Della mia Prima Zucca Incisa Di Halloween Io sono super 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 Satisfatto Di come è venuto Ma soprattutto Di come è venuto il video Ora che l'ho svuotata anche dentro Ci possiamo accendere Una candela E vedere com'è Candela E vedere com'è L'effetto Che Che common Grazie a tutti Grazie a tutti Bene ragazzi, eccoci qua con il risultato finale Io vi giuro sono soddisfattissimo di come sia venuta Spero che vi sia piaciuta questa tipologia di video Io mi sono divertito tantissimo a registrarlo E sono soddisfatto dell'idea che mi sia venuta proprio per portarvi questo contenuto Ora la metto fuori in terrazzo così tutti potranno vedere la mia opera Bellissima E voi l'avete mai incisa una zucca? Scrivetemelo qua sotto nei commenti Detto questo, non posso fare altro che augurarvi una tranquilla Giuse e serena Notte, notte, notte Felice Halloween Ciao 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 Ciao